La conquista dello spazio, da dieci anni, United States of America non entrava in orbita direttamente. Lo hanno fatto in queste ultime ore un privato, Tesla, Musk, che ha mandato New Dragon in orbita. C'è stato un imprevisto per via del tempo, tutto è filato liscio e oggi, in queste ore, in queste giornate e settimane, sono all'interno della stazione spaziale orbitante intorno alla Terra, iniziano i viaggi privati intorno alla Terra. Questo è un primo elemento che ci dice come affrontare il futuro, il futuro prossimo sarà il ping pong che affronteremo insieme nei vari punti di vista. Com'è la Terra dal di sopra? Cosa succederà nel futuro? Quali sono gli spazi nell'universo che andremo a esplorare? Io ho un'immagine, non so se la nostra religia riesce a farcela vedere, di Rambaldi. Rambaldi è stato un grande sceneggiatore, ha fatto E.T., mi ha lasciato una vignetta, eccola, vedete, quella originale, a me dedicata ancora 12 anni fa, credo, quella è E.T. È quello che lui pensa perché dice fuori dalla pianeta Terra, nel grande universo o negli universi, come si usa a dire, sembrano oltre 20 questi universi, c'è forse un E.T. di quella specie. Allora, come riusciremo a sconfiggere coronavirus e guardare il futuro? Sarà E.T. a darci una mano? Adesso andiamo a scoprire le carte. E.T. a darci una mano? Adesso andiamo a scoprire le carte. Il nostro tentativo è quello di porci, se volete, con umiltà, ma con determinazione, ma anche con abbedutezza, guardando un po' il futuro, dopo questo tempo di coronavirus, immaginare, se non altro, quale possa essere questo nostro futuro. Lo vedremo articolando alcuni passaggi molto importanti con protagonisti. Iniziamo col chiedere ai primi due ospiti protagonisti, e cioè l'onorevole Sergio Pizzolante, che è già parlamentare di Rimini, riminese, anche se nativo dalla Puglia, dal barocco leccese, in questo senso, e lo ringrazio, ma è anche opinionista oggi nei principali giornali di questa nostra terra di Romagna, e l'architetto Filippo Pambianco, che è progettista, appunto, architetto, giovane architetto, ma già affermato, uno che, avendo messo in discussione se stesso, anche all'estero, come vedremo successivamente, oggi lavora in questa terra, però avendo presente, questa è la sua presenza oggi, il tema del futuro, quali saranno le nostre città, quindi il tema dell'urbanistica, dell'arrivo urbano, qual è la città ideale, c'è un bel dipinto sulla città ideale, a proposito, che mostra in questo tempo proprio le scuderie del Quirinale a Roma, la città ideale, importantissima, ma qual è oggi la città ideale dopo coronavirus? Ma anche le nostre città, gli appartamenti, 80 metri, oggi 50 metri, o 150, o lo smart working fatto in una camera ad hoc, in uno studiolo ad hoc, insomma, una serie di temi che ci proponiamo di esaminare e di approfondire. Però il quadro, aspetta l'onorevole, mi perdoni, giovane architetto, ma architetto già affermato, aspetta il quadro politico-economico, onorevole Pizzolante. Sì, è un compito difficilissimo, perché quello che è successo e ancora succede, è un evento che rimarrà nella storia. Noi, i nostri vecchi, ci hanno sempre raccontato il periodo della guerra, il periodo della dopoguerra, che ha cambiato radicalmente la loro vita e tutti gli scenari politici, economici, sociali, civili di tutti i paesi in Occidente, e non soltanto in Occidente. Questa questione del Covid, tre mesi chiusi in casa, la crisi economica ha un impatto sul mondo, sulle nostre vite, equivalente a quello della guerra e del dopoguerra. Quindi, come dire, prevedere come andranno le cose sarà, oggi è complicatissimo. Il punto è come usciamo da questa crisi. Usciamo, si dice, migliori o peggiori? Difficile dirlo. Mi perdoni, c'è quel filosofo francese, Welbeck, che dice né peggiori né migliori, ma solamente diversi. Questo è sicuro, questo è sicuro. Mi sembra una definizione perfetta. Però questa cosa inciderà non soltanto sugli equilibri dentro ognuno di noi, dentro le nostre città, dentro i nostri paesi, ma anche negli equilibri geopolitici del mondo. Guardate la guerra che si è scatenata sulla questione del vaccino. Il vaccino dovrebbe essere un'occasione per tutti e invece su questo si sta combattendo una guerra fra potenze. Poi c'è quanto questa cosa può incidere sul futuro delle democrazie. Saranno le democrazie in grado di rispondere meglio a questa crisi oppure le democrazie sono destinate a soccombere rispetto ai paesi e alle culture autoritarie che hanno risposte più semplici e più veloci a questioni che hanno una complessità enorme. Guardiamo cosa sta succedendo in America, guardiamo l'influenza della Cina nel sistema geopolitico internazionale. Quindi è una situazione enormemente complicata. Se noi guardiamo con attenzione per esempio questa questione dell'equilibrio fra le culture autoritarie e le culture democratiche, noi guardiamoci intorno e le culture autoritarie stanno prevalendo nel mondo. Noi abbiamo soltanto l'Europa e una parte dell'Europa e anche in America c'è un conflitto enorme su questo. Nel mondo, mentre prima, 20 anni fa, 30 anni fa, con l'inizio della globalizzazione, sembrava che fossero le democrazie nel mondo capaci di offrire una strada nuova alle culture, ai paesi autoritari, sta succedendo l'esatto contrario. Quindi questo virus, questa crisi, avrà un impatto anche sugli equilibri democratici del mondo. L'Europa è uno. Mi perdoni, credo che abbiamo... Riprenderà questo concetto. Abbiamo l'immagine dell'onorevole Elislein. Buongiorno. Buongiorno. Intanto grazie per questo collegamento. E questo è veramente... perché lei non ricorda, ma 7-8 mesi fa io ho fatto una chiacchierata con lei, un'intervista, e allora affrontammo due temi. E cioè, prima il tema del rapporto, della presenza della donna nella società, e il secondo tema, il rapporto con l'Europa, perché lei è stata parlamentare europea, onorevole. Però nel frattempo sono capitate due cose, ed entro subito nell'argomento. La prima, molto importante, io non so se lei l'avesse nei suoi piani, ma è stata eletta con il massimo delle preferenze nella Regione Emilia-Romagna il 26 di gennaio, ed è diventata eletta Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Questa, però, subito dopo, è capitato sul capocollo a noi tutti, e quindi anche lei, Covid-19. Partiamo dal discorso delle donne che sono stati importanti, hanno combattuto per prime, o hanno avuto gli ormoni per combattere efficacemente il Covid. Quindi la presenza della donna. Grazie, onorevole. E a lei. Grazie a voi. È un piacere essere con voi. Saluto anche chi ci sta seguendo da casa. Il ruolo della donna, anche in questa fase, deve essere sempre più centrale e determinante. Non nascondo una preoccupazione. Questa è una crisi estremamente trasversale, che è, diciamo, partita sanitaria, ma si è subito tradotta in una crisi economica e sociale, con cui dovremo fare i conti per un po'. Ci stiamo attrezzando. Già dalle prime settimane abbiamo provato a mettere in campo strumenti utili di supporto, tanto alle imprese, quanto a lavoratrici, lavoratori e alle famiglie. Naturalmente, però, cosa preoccupa? Che questa crisi andrà ad aggravare, lo sta già facendo in queste prime settimane, un quadro di diseguaglianze che già conoscevamo, un quadro di fragilità che già conoscevamo, i nostri comuni sui territori conoscevano, e al contempo fa emergere nuovi bisogni. Tra questi nuovi bisogni, il rischio di un ulteriore aggravio della condizione della donna, soprattutto della condizione occupazionale della donna, c'è, perché già, se ricorderete, dopo la crisi del 2008-2009, sicuramente le donne hanno pagato ancora di più dal punto di vista della precarizzazione dei contratti, del part-time involontario, così si dice, o comunque di una maggiore fatica nell'accesso al mercato del lavoro. Ecco, oggi siamo di nuovo di fronte a questo rischio, per questo è importante non fare passi indietro sul tema della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, ed è il motivo per cui stiamo tanto insistendo con il governo di accompagnare alla strategia di graduale ripresa delle attività lavorative, produttive, economiche, anche una strategia di sostegno alle famiglie nella gestione dei carichi di cura e di lavoro, penso ai figli, ad esempio. Non dimentichiamo che le scuole sono ancora chiuse e abbiamo qualche novità positiva, invece, sui servizi dei centri estivi per i ragazzi, e da ieri l'apertura del governo c'è stata anche sulla fascia 03, e quindi dei più piccoli. Questi sono passi importanti a cui abbiamo cercato di contribuire in un rapporto sempre di collaborazione con il governo fornendo proposte concrete. Quindi io le direi questo, sul ruolo delle donne, ecco, non dobbiamo dimenticare che non possiamo scrivere buone politiche pubbliche con un occhio chiuso, che è quello delle donne che rappresentano la metà della società almeno, quindi è importante sempre di più provare a invertire la tendenza alla sottorappresentazione delle donne nei luoghi dove si decide. vale per la politica, dove purtroppo ancora bassa è la percentuale delle donne in posizione, diciamo, o di governo, piuttosto che anche come sindaci, ma anche nei luoghi dell'economia, dove in Europa si registra un 4% soltanto di donne nei CDA delle aziende quotate in borsa. La strada è ancora lunga, gli strumenti però si possono attivare. Onorevole, mi piace questa immagine, una sorta di polifemo femminile, l'occhio non solo, ma due occhi che guardano il mondo. Questa è una bella immagine. E vabbè, questo è il tema primo, però il secondo è quello, lei ha questa delega pesante, oltre ad essere vicepresidente, ne ha tante, ma almeno un paio, mi interessano direttamente in questa puntata, nella quale stiamo parlando di futuro prossimo. Il welfare e poi la green economy, il futuro che si apre, il pianeta. Ecco, questi sono i due temi. Poi ne ho uno finale che è quello sull'Europa. Prego, a lei. Io credo che questa crisi drammatica che peraltro ha avuto e dà ancora un costo umano e di sofferenza altissimo, non dimentichiamo che la nostra regione è tra le più colpite e abbiamo avuto purtroppo diversi morti, ci ha costretto questa crisi a fare i conti con alcune verità. Una è sul ruolo del pubblico e della sanità pubblica su cui non bisogna tornare indietro, anzi, bisogna insistere perché se abbiamo imparato qualcosa anche nelle strategie per affrontare il Covid-19 è l'importanza dei presidi territoriali, della sanità, ma anche sociosanitari, anche sociali, cioè di integrare meglio le nostre politiche sui territori affinché si intervenga su un bisogno sociale prima che si rischi di tramutare in un bisogno sanitario. Questo vale specie per le popolazioni più fragili e che sono state più esposte al virus, pensiamo alle persone anziane, pensiamo alle persone con disabilità, su cui la regione intende rafforzare le proprie linee di intervento a partire da investimenti già importanti fatti in questi anni. Il nostro Fondo per la Non Autosufficienza è, diciamo, complessivamente un fondo che corrisponde a quanto ci mette lo Stato direttamente sul suo, per cui abbiamo un'attenzione particolare che vogliamo rafforzare ulteriormente. Dal punto di vista delle politiche di welfare, secondo me sarà necessario un ripensamento per rimettere al centro la qualità della vita delle persone, ma in questo anche del pianeta, perché ha ragione lei le due cose sono strettamente inscindibili. Lotta alle diseguaglianze e transizione ecologica, questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questo assessorato, sicuramente insolito, ma qual è la ragione? Non è una, diciamo, ricerca di innovazione nei vocaboli o testuale, è la considerazione che, se ci pensiamo, le persone che hanno vissuto più drammaticamente i cambiamenti climatici fino a qui sono anche quelle che si erano più impoverite nel corso degli ultimi anni di crisi e quindi intervenendo su la giustizia sociale bisogna apparimenti intervenire anche per assicurare la qualità della vita delle persone e dell'area che respirano, perché non tutti possono decidere dove lavorare, dove vivere, in quale tipo di abitazione, in quale tipo di territorio e che aree respirano mentre lavorano. Quindi sta a noi sviluppare insieme una strategia che dopo il Covid non miri tanto a tornare alla normalità di prima ma anche a correggere alcune delle storture che la normalità di prima ci consegnano tra cui la necessità di fare un nuovo patto per il lavoro e integrarlo con un ambizioso patto per il clima e ne va della grande responsabilità che abbiamo verso le prossime generazioni. Io credo molto e su questo chiudo che occuparsi di transizione ecologica e di green economy non sia soltanto un modo per salvare il pianeta come ci chiedono le giovani generazioni che manifestano scioperando per il clima ma è anche un modo di costruire nuove opportunità di lavoro di qualità e in questo l'Europa così chiudo il cerchio sarà fondamentale mi fa piacere vedere che in una condizione di emergenza qualche passo prima impensabile su una maggiore integrazione europea si sta facendo senza perdere l'ambizione di orientare i nuovi massicci investimenti che arriveranno in Italia 173 miliardi con il recovery fund che vorrà dire più opportunità per la regione Emilia Romagna e le nostre comunità locali ma orientarli verso obiettivi chiari la transizione ecologica appunto con il green new deal e la transizione digitale ma in questo con una grande attenzione proprio al sociale e al lavoro quindi qualche buona notizia da Bruxelles faticosamente sta arrivando e sta a noi coglierle e trasformarle in benefici per le nostre comunità allora io la ringrazio per questo escursus però mi consente intanto la invito un prossimo ping pong a venire in studio per confrontare lei con le tesi dei nostri ospiti perché è importante noi abbiamo collegamenti con tutti gli assessorati col presidente varie volte Bonaccini quindi le rivolgo ufficialmente all'invito questo è il primo aspetto ma il secondo domande secche lei scaricherà app su Immuni? in effetti non l'ho ancora fatto però lo faccio volentieri ho visto che è uscita mi sembra l'altro ieri o ieri forse addirittura bene questa è la prima la seconda MES subito perché le chiedo questo perché lei ha parlato del recovery fund ma bene che vada così dicono i macroeconomisti andremo alla primavera del 2021 addirittura se non alla fine di quest'anno nel frattempo l'Italia ha bisogno di risorse il Shure la Bay eccetera ma il MES senza condizionalità perché non utilizzarlo? allora prima mi permetta di chiarire sul recovery fund ho incontrato il diciamo il capo unità della direzione COFIN due giorni fa della commissione europea il quale ci ha precisato alcuni elementi di questo pacchetto in realtà una parte del pacchetto di 750 miliardi di cui 173 arriveranno appunto al nostro paese si potrà già attuare da settembre ed è la parte che si chiama REACT con un'anticipazione sostanziale della programmazione di fondi europei previsti inizialmente per il 2021-2027 quindi c'è un anticipo in linea con quello che il presidente Bonaccini insieme alla novella Chitena avevano chiesto alla commissione europea 55 miliardi già da settembre le restante parti che sono il Just Transition Fund che proprio vuole accompagnare la transizione ecologica con investimenti adeguati sono 40 miliardi sarà disponibile da gennaio e anche diciamo il Resilience Recovery Fund sarà disponibile dal primo di gennaio serve naturalmente che il governo in fretta predisponga il piano nazionale necessario per attuare queste misure per quanto riguarda il MES naturalmente io non sono mai per delle chiusure pregiudiziali bisogna andare a vedere le carte questo è quello che ho imparato in 5 anni di esperienza a Bruxelles se davvero c'è una possibilità di attingere a ulteriori investimenti senza che questo si traduca nelle condizionalità di antica memoria che ci riportano da una stagione infelice da cui dovremo trarre qualche lezione per evitare di incorrere negli stessi errori fatti dopo la crisi 2008-2009 io penso che questo dibattito vada fatto senza ideologie e senza prese di posizioni diciamo a tavolino bisogna sempre approfondire nel merito è una questione che mi auguro anche io di poter affrontare presto con tutti gli interlocutori a partire dal Ministro Gualtieri che è un mio ex collega eravamo insieme europarlamentari per capire cosa è davvero sul tavolo e se le preoccupazioni di alcuni sono in qualche modo fondate oppure no e in quel caso si può bene procedere anche su questo ulteriore fondo di finanziamenti in questo caso diciamo più sul versante mi pare sanitario se non sbaglio da come è stata costruita fin qui però mi deservo di studiare ulteriormente gli atti per quanto riguarda quella parte sul resto che abbiamo già esaminato in questi giorni sono 2000 pagine di pacchetto che è stato presentato dalla Commissione nello scorso 27 di maggio devo dire che il mio giudizio è complessivamente molto positivo naturalmente sono una federalista europea quindi spero di vedere ancora maggior coraggio e volontà politica dai governi devo dire che però mi stupisce proprio questa diciamo prontezza con cui alcuni dogmi degli ultimi cinque anni si sono sbriciolati davanti ad un'emergenza ad una crisi molto simmetrica questa è la differenza che mi fa sperare una crisi che colpisce tutti i paesi europei ci costringe a mettere in campo la solidarietà europea senza la quale l'Unione rischia davvero di sfaldarsi è il momento di fare l'Unione davvero io la ringrazio naturalmente le chiedo anche di venire da noi come dicevo prima proprio per capire a fondo il meccanismo cosa voglia dire senza condizionalità ma soprattutto attenzione possono anche anticipare però il problema come hanno detto eminenti commissari europei bisogna fare le riforme questa è la condizione e la condizionalità credo di poter dire forse c'è qui con me l'onorevole Pissolante posso un minuto solo vuol fare una domanda prego no più che una domanda io direi che noi non dovremmo avere paura delle condizionalità perché se le condizionalità sono quelle imposte alla Grecia non vanno bene non vanno bene ma se le condizionalità sono spendere bene i soldi non spendere i soldi per i provvedimenti bandiera riformare la giustizia civile riformare la giustizia penale far funzionare meglio il paese ben vengano queste condizionalità prego onorevole non potrei essere più d'accordo con lui per quello insisto che bisogna guardare bene cosa c'è sul tavolo no? è chiaro che i cosiddetti paesi frugali faranno opposizione al Consiglio europeo del 17 di giugno in cui si discuterà questo pacchetto complessivo perché c'è molta resistenza c'è ancora purtroppo molto pregiudizio verso i paesi in particolare del sud e verso queste nuove misure ricordiamo che in come è stato presentato il pacchetto è prevalsa la linea diciamo sposata anche da Francia e Germania di avere una maggiore quantità di sovvenzioni rispetto ai prestiti questo naturalmente favorisce il nostro paese sono d'accordo sul ragionamento sulle condizionalità ci sono anche delle buone condizionalità faccio un esempio è quello che dicevo prima orientare gli investimenti anziché dare aiuti a pioggia ma verso un nuovo modello di sviluppo che tenga insieme la questione sociale la questione ambientale è un esempio di condizionalità positiva naturalmente facevo prima riferimento a condizionalità molto stringenti e molto controproducenti che abbiamo visto invece dopo la crisi del 2008 e 2009 sulla scorta di questa idea che è diventata purtroppo in certi casi un'ossessione di alcuni paesi membri della austerità a tutti i costi e naturalmente il tema della tenuta dei conti pubblici è un tema importante anche questo è un tema di responsabilità verso le prossime generazioni che cosa è mancato in questi anni all'Europa e forse vedremo finalmente adesso accompagnare quell'attenzione ad un adeguato piano di investimenti e risposte innovative straordinarie per costruire il futuro nell'innovazione nella ricerca nell'economia verde ecco in quello che può servire per uscire da questa crisi anziché aggravarla come purtroppo era successo dopo il 2008-2009 grazie onorevole buon lavoro sia in Emilia Romagna sia in Europa la ringrazio onorevole bene grazie buon lavoro e a presto grazie grazie tante grazie e intendo l'ho interrotto però vorrevo concludere siccome lei ha fatto giustamente questo diretto collegamento con l'onorevole ritorno da lei perché vorrei invece fare questa domanda all'architetto prima di chiudere questa prima parte cosa vede lui l'architetto dal punto di vista tecnico progettuale cosa ci riserverà il futuro qual è la mentalità che dobbiamo cambiare prego direi che la partita si gioca su due campi sicuramente quello della sostenibilità e quindi di una con tecnologie e materiali che consumino meno il pianeta con un uso più attento delle fonti energetiche questo mi riferisco in particolar modo al processo anche edilizio nella sua totalità quindi dall'estrazione della materia prima fino all'utilizzo vero e proprio del bene dall'altra parte invece trovo che il pubblico sia un tema fondamentale anche per la ripresa dal punto di vista architettonico e sociale cioè per pubblico intendo investimenti pubblici cioè investire su quello che è lo spazio pubblico lo spazio che poi contraddistingue la nostra cultura e le nostre città unitamente a questo spazio pubblico noi abbiamo assistito adesso anche a una maggiore consapevolezza che i vecchi impianti distributivi cioè le immagini di per esempio in concreto parliamo degli ospedali in questa situazione di emergenza ci si è trovati a dover modificare la struttura vera e proprio dell'ospedale perché c'erano determinate zone piccole per le richieste invece di pazienti che c'erano il futuro sicuramente sarà quello di avere degli spazi flessibili cioè avere degli spazi in cui queste modifiche possono avvenire in poco tempo e in maniera molto importante quindi io mi auguro che anche nel privato cioè nella nostra mentalità entri questo nuovo concetto di flessibilità cioè le nostre abitudini mutano il nostro corpo col passare del tempo muta le nostre esigenze e quindi di pari passo io credo che la progettazione e l'architettura debba seguire queste mutazioni prima di sospendere per un momentino con la pubblicità domanda secca all'architetto e all'onorevole ma proprio per questo discorso degli ospedali del sistema sanitario universalistico nato 41 anni fa in Italia che ha dimostrato delle pecche delle carenze in questo frangente soprattutto gli ospedali non pronti ma la domanda è ma noi abbiamo un istituto superiore di sanità abbiamo una programmazione io sono venuto a sapere per esempio dice il commissario Orcuri oggi distribuiamo le mascherine milioni ma sono passati tre mesi e mezzo cioè quello che io chiedo ai grandi quelli che oggi si dicono scienziati ma sono medici non scienziati parliamoci chiaro anche questo vorrei sfatare con tutti i rispetto lo dico però l'istituto superiore di sanità non doveva nel quadro generale sapere che l'ospedale per le malattie croniche o gli interventi è una cosa per i fatti di terapia intensiva che manca era un'altra cosa o no perché anche dal punto di vista architettonico ma politico generale brevemente datemi una risposta perché dopo andiamo in pubblicità beh sicuramente vanno di pari passo cioè la buona gestione deve essere accompagnata da una struttura adeguata diciamolo un dialogo fra queste due situazioni sicuramente ma il sistema sanitario bisogna dire la verità non ha tenuto e questo era considerato uno dei sistemi sanitari più importanti e migliori nel mondo ma non ha tenuto non ha tenuto perché come dire la spinta del virus è stata fortissima ma perché come dire i servizi fra le diverse regioni erano molto diversi il Veneto ha funzionato la Lombardia no l'Emilia Romagna così così quindi noi abbiamo bisogno dei soldi del MES per far funzionare il sistema sanitario bene andiamo in pubblicità riprendiamo partendo da questi argomenti con i nostri ospiti Onorevole Pistolanti io riprenderei con lei il colloquio come l'abbiamo interrotto prima dell'intervista del collegamento Skype con l'Onorevole Pistolanti dicevamo dell'impatto del Covid sul futuro già noi avevamo un equilibrio precario nel mondo fra come dire la prevalenza delle culture autoritarie verso quelle democratiche il Covid rischia di peggiorare questo disequilibrio a sfavore delle democrazie ecco perché per noi e per il nostro futuro di occidentali di europei è fondamentale la questione dell'Europa perché l'Europa è l'unico baluardo solido di democrazia che è rimasto nel mondo se ci pensate bene quindi io sono contento che l'Europa abbia fatto dei passi in avanti mettendo in campo politiche scelte che erano impensabili fino a 3-4 mesi fa ma queste avranno un'influenza nel nostro futuro non soltanto dal punto di vista sociale ed economico ma anche dal punto della tenuta della democrazia in Europa e nel mondo questo è un passaggio fondamentale perché fuori dall'Europa fuori dall'Europa la stragrande maggioranza dei paesi oggi vivono dentro una dimensione autoritaria e populista io sono d'accordo con lei ma una recente indagine un sondaggio negli italiani perché l'Italia dice che sono per avere un capo che decida ma infatti questo è il problema e questo è il problema questo è il problema perché la democrazia non ha più appeal due anni fa ho fatto un incontro con dei giovani e io come dire allarmato dicevo ma attenzione che qui salta la democrazia la reazione dei giovani che io ho incontrato non di tutti i giovani era e beh che cosa significa cioè la cultura democratica sta perdendo appeal soprattutto fra le giovani generazioni e questo è un problema enorme perché noi come vediamo se ci affidiamo all'uomo solo al comando sempre nella storia le cose sono finite male ma vediamo cosa sta succedendo adesso in America che in due mesi ha prodotto 30 milioni disoccupati e poi qui dovremmo poi aprire una grande finestra su che cosa voglio dire in termini politici anche oggi sul nostro paese pur in maniera molto blanda perché non ci sono le grandi personalità però c'è anche qui il rischio perché i dpcm e le conferenze stampa e per questo metodo persuasivo sono l'indice del DNA quando in pieno lockdown il presidente Conte ha fatto una conferenza stampa per dire vi concediamo questo non vi concediamo quell'altro quello è tipico di una cultura ormai non democratica bene stiamo sempre attenti però cosa vuol dire dal punto di vista tecnico architettonico dell'artista io ho sentito ho letto anche quello che hanno detto sia Piano che Boeri che altri Archistar che a proposito del rapporto con la democrazia in fin dei conti anche l'aspetto urbanistico anche l'aspetto abitativo le abitazioni sono segno di democrazia di partecipazione prego beh sì io partirei proprio dalla scuola cioè parlando appunto di giovani le nostre scuole hanno bisogno di una riqualificazione ma anche dal punto di vista a parte energetico perché la maggior parte hanno grossissimi problemi da questo punto di vista ma anche ripensare quindi lo spazio lo spazio scolastico l'aula gli spazi sociali cioè la scuola deve ritornare ad assumere il valore che ha cioè che crea gli uomini e le donne del futuro cioè cerchiamo di capire come possiamo fare questo sicuramente questa esperienza del covid ci darà alcune indicazioni per esempio tutto fa pensare che ci sarà una maggiore generosità negli spazi o quantomeno meno persone negli stessi metri quadrati che potrebbe essere una cosa positiva altro aspetto fondamentale dal mio punto di vista è il verde la vegetazione quindi questa parola che diciamo che utilizziamo molto green 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 però green green secondo me è veramente io lo traduco in verde cioè la natura che fa parte dell'edificio Boeri Bosco Verticale Milano Bosco Verticale bellissimo chiaramente adesso tutte diciamo queste archistar si stanno manifestando con opinioni che più o meno vanno tutte nella stessa direzione quindi c'è c'è da ripensare tutta una serie di edifici e di spazi per esempio io adesso noto con gioia che pur in questa pandemia nella rinascita che sta avvenendo sto notando che i nostri centri storici iniziano a essere popolati da tavoli di ristoranti e quant'altro perché chiaramente non potendo stare all'interno quello che si sta cercando di fare è dare maggiore possibilità agli esercizi di poter vivere la città e io questa la vedo come una cosa cioè il salotto la piazza diventa il salotto della città quindi è un'immagine che mi piace ecco anche a me piace vorrei assimilare quello che ha detto Onorevole credo che sia molto interessante e importante questa visione sul futuro a me viene in mente quando l'architetto pone il problema non solo dei dehors di una volta ma gli spazi che si allargono fuori dai bar dei ristoranti nasce non la Gorà virtuale la Gorà la piazza virtuale ma la piazza reale in fin di conti al tempo dei greci soprattutto la Gorà era questo il confronto era questo veniva così l'uomo che si riappropria degli spazi che si riappropria delle piazze che torna a frequentare fisicamente le piazze questo potrebbe essere un grande passo un grande passo in avanti perché attenzione anche il termine sciagurato con il quale noi abbiamo gestito questa crisi cioè il distanziamento sociale ha un effetto sulla nostra mente terrificante perché l'uomo è fatto non per essere distanziato socialmente è un essere relazionale è un essere relazionale quindi io avrei preferito un altro termine avrei preferito non so distanziamento fisico legato all'emergenza l'architettura ha una funzione fondamentale per costruire meccanismi di riaggregazione sociale noi alcuni dicevano che bisognava distanziare non soltanto le persone ma i giovani da gli anziani isolare gli anziani sono cose che hanno un effetto devastante sulla nostra mente che durerà nei decenni se l'architettura costruisce luoghi in cui si ritorna ad integrare il ragazzo la famiglia l'anziano avrà una funzione per la democrazia fondamentale questo è un altro termine ancora però torno torno dall'architetto questo è uno dei compiti che questa società la classe dirigente di questo paese noi tutti dovremmo affrontare la ricomposizione delle fratture psicologiche e sociali che si sono create in questo tempo di coronavirus nord sud anziani giovani regioni stato se andiamo a vedere c'è tutto la campagna quindi a livello territoriale la campagna e la città la gente come dice lei spesso che oggi va dall'immobiliarista e dice ma c'è un casolare in campagna perché si pensava che entro il 2030 il 75% dell'umanità e quindi stiamo parlando di 6 miliardi di persone vivessero nelle grandi megalopoli io non so forse qualcosa sta cambiando o no architetto beh sì sicuramente ci può essere un'inversione di tendenza lo si sta notando ed è vero parlando anche con colleghi vuoi per paura vuoi per il timore di una nuova che si possa riproporre una nuova pandemia un nuovo virus si nota che c'è una richiesta importante di case singole al di fuori del centro centro storico centro urbano comunque su questo posso interpretare su questo ho detto una cosa molto importante l'onorevole Sklein quando dice che come dire chi è più povero non sceglie non può scegliere dove abitare chi è più ricco si sceglie la villa in campagna chiarissimo quindi la questione anche qui della programmazione degli spazi pubblici delle case popolari la reinvenzione degli spazi e delle case popolari questo è un tema che mi sta molto a cuore perché l'architettura ha un ruolo fondamentale su questo noi ce lo siamo totalmente dimenticati io non è moltissimo che esercito la professione e partecipo a molti concorsi pubblici io credo che negli ultimi 15 anni ne abbia visti 3-4 di concorsi casi popolari negli altri paesi quando ho lavorato in Spagna ne abbiamo fatto infinità ma c'è un quartiere a Madrid dove concorso dopo concorso si è costruito un paesaggio urbano stupendo perché venivano chiamati il miglior architetto spagnolo il miglior architetto portoghese il miglior architetto e si è creato un contesto perché sfatiamo il mito che nella casa popolare è piccola e non si viva bene non è così oggigiorno una casa popolare sociale progettata bene è una casa con la C maiuscola quindi c'è quest'idea che la casa popolare ma è brutta purtroppo è così non dovrebbe essere così non dovrebbe essere così nel resto d'Europa in molti casi sono d'accordo è un valore aggiunto questo è un grande investimento sul futuro questo è un altro tema però c'è un altro ancora il tempo se ne sta andando ma sono tutte provocazioni lei ha accennato alla scuola l'edificio verde di Milano di Boeri la mia domanda è ma nelle nostre case come vivremo? 50 metri quadrati alla giapponese i 150 delle case medie e poi gli spazi per il futuro degli spazi lavoro lo smart working che dovremmo sempre di più incentivare perché quello che abbiamo fatto oggi non è lo smart working è una necessità che è sorta così lo smart working a chi ha delle caratteristiche precise anche dal punto di vista architettonico e abitativo beh sicuramente diciamo che il vecchio studio che ormai è scomparso dagli appartamenti di recente costruzione potrebbe ritornare in voga perché chiaramente dopo questa esperienza si potrebbe anche decidere di destinare un vano del proprio appartamento della propria abitazione al vero come dice lei al vero smart working non allo smart working raffastato con un computer in cucina mentre sto facendo altre cose esatto cioè ha un vano adibito alla professione quindi al lavoro e qui dovranno strutturarsi cose che avremo dopo anche con ispetti di azienda anche le stesse aziende perché smart working significa sì io ho casa lavoratore ma anche in azienda devo avere la struttura idonea per fare lo smart working quindi anche nella costruzione dei pressi aziendali cambierà il concetto ci sarà un cambiamento sì sicuramente sì meno meno gente che va al lavoro meno mobilità meno mezzi meno cioè quindi questo dobbiamo capire dove però dove vogliamo arrivare perché né un estremo né l'altro io credo che siano in medio stat virtus in medio stat virtus dice in attenzione non dice come si diceva all'inizio onorevole e come dice Welbeck né migliori né peggiori diversi questo sì diversi no no questo quello che sta dicendo l'architetto significa che noi dobbiamo come dire ripensare riprogrammare tutta la gestione degli spazi quelli dei ristoranti gli spazi all'aperto le piazze le spiagge come organizziamo le spiagge le case lo spazio per il lavoro in casa lo spazio per il relax in casa fare in modo che queste cose non arrivino soltanto a chi ha più mezzi fare in modo che arrivino anche a chi ha meno mezzi e ritorna il concetto degli anziani il concetto delle case popolari noi siamo di fronte ad una rivoluzione che è data dalla questione sanitaria data dalla possibilità enormi della tecnologia e del digitale e l'architettura oltre che alla politica perché la politica deve avere una visione hanno un ruolo fondamentale prego noto che parlare oggigiorno solo di architettura ormai è riduttivo perché è diventata una scienza che non è più solo una scienza ma c'è di mezzo la sociologia c'è di mezzo filosofia 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 quindi a me interessa questo scambio di opinioni anche con lo preferisco non da architetto architetto ma da architetto a politico a sociologo perché credo che sia più costruttivo e arricchisca ambo le parti questo è molto positivo detto da un architetto non solamente a livello tecnico ma a questo confronto aperto assolutamente così perché come diceva lei come dire l'architettura è anche filosofia no? perché anche la costruzione degli oggetti dei mobili degli strumenti con i quali noi abitiamo la nostra casa o con i quali con i quali noi viaggiamo sono filosofia stanno dentro una visione esistenziale della vita cioè esisto vivo in che modo in che spazi con quali mezzi con quali strumenti e quindi l'intreccio che poi è storico fra la politica la visione e l'architettura è fondamentale adesso vorrei fare architetto carissimo e onorevole una controprova con l'architetto José Ignacio che lei conosce molto bene la saluto la saluto io anche grazie la saluto è ormai è tardi buona sì sì possiamo parlare possiamo parlare sì podemos podemos non podemos gli spagnoli che avete al governo o quasi José Ignacio cos'è cambiato con Covid-19 a livello architettonico urbanistico per il momento non si sa che cosa può passare però penso che si deve riflettere un po' sulle cose perché credo che abbiamo fatto una città un po' poco abitabile un po' troppo densificata e anche io credo che si deve riflettare su queste questioni perché io credo che questo ha un rapporto anche con la con la pandemia ecco ma anche la città come luogo dove abitare quindi dove anche socializzare io ho presente in questo momento Marrakesh la piazza Gemah El Fna c'è una piazza dove giorno e notte la gente si confronta parla urla canta anche la città deve cambiare come modo a parte il distanziamento sociale deve cambiare l'urbanistica nella città io credo che questo è anche è un problema provvisorio perché io credo che dopo il vaccino sicuramente questo va a cambiare va a tornare un po' alla situazione prevista la situazione antica possiamo dire perché io credo che anche la relazione tra le persone è anche un fenomeno culturale quindi non si può spostare non si può separare della cultura soprattutto nella cultura mediterranea questo è anche una costante io credo che questo provvisoriamente si deve rispettare tutte queste distanze queste cose però dopo questo io credo che le cose torneranno alla situazione originale dottor cos'è Ignacio questa sua tesi è in controtendenza con la tesi comune che dice che invece cambieranno le cose lei dice passate il pericolo passata la festa passata il dramma torniamo a far festa questo lo voglio dire no lei sostiene questo con il vaccino torniamo normali penso di sì no penso che è questo che sì ma diciamo questo è un po' diciamo questo c'è un invito anche per riflettare su una cultura più moderata meno consumistica tutte queste cose e questo sì io credo che si deve riflettare su queste cose no anche sulla una cosa che secondo me è un po' terribile no che è il turismo il turismo che ha distrutto le città soprattutto in Spagna in Italia no Venezia è una cosa terribile come il turismo distrugge anche la la città no è un'invasione è una cosa e io credo che su questo si deve riflettare sul sul turismo che si deve fare un turismo più scelto più meno massivo e questo questo sicuramente deve cambiare o almeno io penso che deve cambiare anche tutto perché questo ha un rapporto anche con la conservazione del patrimonio con la conservazione della città e questo deve cambiare ma le relazioni diciamo tra le persone diciamo le spazi convivenziali e così io credo che questo devono ristorarsi devono rimanere come erano prima bene Filippo a lei il suo allievo Filippo Filippo ciao Innazio ti volevo riassumere un attimo questo cambiamento stavamo riflettendo appunto sullo spazio pubblico tu che sei un grande conoscitore anche della storia e prima abbiamo parlato dell'agorà greca dello spazio di socializzazione non pensi che si debba puntare forte sulla rivitalizzazione di questo spazio Penso di sì penso di sì questa è una necessità anche della città contemporanea ma anche io credo che si deve anche fornire più spazi pubblici nella città non soltanto utilizzare soltanto gli spazi pubblici della della città storica della città antica si devono si deve fare anche un diciamo un urbanismo un'architettura urbana che sia più chi può che possa fornire più spazi pubblici avere un rapporto con lo spazio pubblico perché invece adesso soltanto la gente va in centro città perché sono gli unici spazi dove si può sviluppare questa convivenza bene bene cos'è Ignacio però diciamo che speriamo tutti a me piace molto Barcellona oltre Madrid ma Barcellona con Gaudia importantissima oppure andare a vedere quel bel museo che è interessantissimo a Bilbao la spalla è bellissima è bellissima la ringrazio Don Cosè la chiamo così Don perché il Dominus è il Dominus la latina Dominus 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 Cosè Ignacio buon lavoro va bene grazie buon lavoro grazie a lei grazie a lei grazie ciao grazie ciao ecco adesso commento a voi dobbiamo concludere questi quattro minuti per sapere un po' il futuro la vostra proposta è complicato la mia allora torno ad Ignacio in realtà lui non dice cose diverse dalle nostre quindi do anche una risposta alla sua domanda lui dice che la voglia di socialità ritornerà per fortuna e speriamo e quindi il futuro è un futuro in cui ritornerà fortissima la voglia di socialità poi però come riusciamo a organizzare questa socialità la nostra vita nei nuovi spazi nei nuovi comportamenti nel nuovo modo di lavorare è tutto un mondo diverso è tutto un mondo diverso ed è un mondo che va verso spero una capacità di stare insieme rispettandosi meglio gli uni con gli altri gestendo meglio gli spazi e soprattutto un mondo capace di guarire le ferite che si sono create in questi mesi e in questa epoca come diceva lei fra i giovani e gli anziani fra il nord e il sud fra le città e le periferie la politica l'architettura il giornalismo gli intellettuali dovrebbero correre verso questo percorso qui io aggiungo non abbiamo il tempo però su questo tema delle spaccature della nostra società poveri e ricchi sicuramente il tema delle disuguaglianze ma ce n'è un altro che forse un po' più metafisico se si vuole che noi eravamo convinti di essere immortali immortali e quindi anche perché la cura del corpo e il rapporto fra la vita e la morte è il problema tra la vita e la morte ma la riconduzione all'essere umano mortale prego a lei la conclusione sì riguardo a queste appunto possibili disuguaglianze io ribadisco il concetto che quando si è in una piazza si è tutti uguali perché la piazza è di tutti è di tutti i cittadini del ricco del povero del bello del giovane del vecchio quindi cerchiamo di vivere questi spazi che sicuramente ci porteranno a riappropriarci di questa socialità che ci è venuta a mancare in questo periodo quindi meno torri e più piazze possiamo concludere più spazio pubblico sì è d'accordo anche lei onorevole assolutamente la questione della gestione degli spazi del futuro è fondamentale grazie adesso con il contributo di altri protagonisti andremo a vedere anche come si comporta il mondo imprenditoriale cosa capita nelle aziende pubblicità e prosegue il nostro viaggio proprio all'interno del futuro non siamo qui sull'astronave che va intorno alla pianeta Terra ma dentro il nostro mondo dentro le nostre città ma dentro le nostre aziende e quindi dall'architettura momento di democrazia e di sviluppo al fatto che il lavoro si dice il lavoro esiste se esistono le imprese se esiste l'imprenditore se c'è l'iniziativa la creatività il dottor Bruno Bisegni è dirigente d'azienda oltre che presidente del GAL ma qui in qualità di responsabile aziendale e Paolo Cortesi è presidente di elettronica Cortesi storica azienda romagnola ma ha conosciuto almeno in Italia in giro per i sistemi di sicurezza nelle case ma nella fattispecie cosa succede al tempo di coronavirus quali sono le strumentazioni che vedremo subito dopo iniziamo allora se non mi sbaglio a lei dottor Bisegno io vorrei fare se mi è consentito così una piccola considerazione di macroeconomia cioè noi siamo stati abituati a ragionare negli ultimi tempi prima del covid del rapporto deficit pil nell'ordine del 130 132 per cento e lo scostamento di qualche punto percentuale 0 virgola diventava una questione di stato ecco adesso stiamo ragionando probabilmente che il nostro rapporto pil debito pubblico arriverà al 160 161 e oltre il tema quindi è legato a dove si vanno a spendere questo deficit sul plus di deficit mi pare che gran parte della manovra sia concentrata su spesa corrente ecco salvo una parte che riguarda la sanità io ritengo che invece bisognerebbe insistere molto di più non sulla spesa corrente ma sulla parte relativa agli investimenti e in modo particolare gli investimenti pubblici cioè voglio essere chiaro cioè ponte sullo stretto è l'occasione per farlo infrastrutture viarie su ferro e su gomma è il momento di intervenire di migliorare la nostra rete viaria penso alle 45 insomma per capirci cioè vogliamo continuare ad avere una strada così o investiamo su questa magari la facciamo diventare anche una strada a pagamento però diventa una vera riete viaria sulla quale puoi circolare così anche il tema dei temi che abbiamo scoperto durante il mese e mezzo che siamo rimasti tutti chiusi in casa col covid il tema dell'infrastruttura invece informatica del nostro territorio l'Emilia Romagna è una regione molto avanti assolutamente però c'è ancora tanto da migliorare come capacità di trasmissione di recessione quindi io sono della tesi che bisogna rimettere in campo quella che era una cultura che è stata usata dopo la grande crisi del 29 del New Deal e quindi le politiche keynesiane qui bisogna ripartire con delle politiche keynesiane il pubblico deve tornare a investire sulle infrastrutture voglio specificare non sulla spesa corrente questo vuol dire anche di pensare al modello di sviluppo al modello di sviluppo perché è vero quello che dice lei uno studio ci informa che noi abbiamo 110 miliardi là già opere per 110 miliardi già finanziate quindi ferme ma si può immaginare che in un paese come il nostro che soffre di tale burocrazia noi per far partire un'opera dobbiamo nominare un commissario perché alla fine viene questo il punto e nonostante che ci siano 500 esperti in questo momento nominati negli vari staff del ministero o della presidenza del consiglio ci vuole un commissario dice qualcuno per far partire un'opera purtroppo guardi già forse il primo governo Berlusconi ci ha dimostrato che era questa la strada dopo ci sono state le degenerazioni però quando è stato il momento di far partire certe opere pubbliche che non riuscivano a partire sono state affidate alla protezione civile anche delle cose che non c'entravano niente i giochi sportivi in acqua in piscina a Roma quella è stata la degenerazione però l'idea che si possa e si debba trovare il modo di superare tutti i legaci che abbiamo con la burocrazia che frena lo sviluppo c'è poco da fare cioè lo fa sulle imprese venendo al tema di oggi sulle imprese oggi per presentare le domande relative per esempio ai finanziamenti che si possono ottenere dal sistema bancario si mette in moto una procedura tanto complessa sia dal lato burocratico delle banche che verso il pubblico che alla fin fine gran parte delle imprese saranno scoraggiate tralascio il finanziamento dei 25 mila euro che ha avuto una procedura diciamo agevolata e lì tutto sommato il giochino ha funzionato bene per il resto invece diventa estremamente difficoltoso quindi va ripensata prima di tutto una burocrazia che oggi non è amica né dell'impresa né dei cittadini ecco allora mi rivolgo proprio al dottor Paolo Cortesi prima di entrare nel merito della strumentazione tecnica tecnologica della sicurezza lei come impresa vede proprio la sofferenza della burocrazia che pesa sullo sviluppo dell'impresa delle iniziative purtroppo sì sempre più spesso ci si trova a spendere più tempo e forza lavoro nella gestione della carta la cosiddetta carta gestione della carta chiamiamola così perché si usa molto portali informatici ma spesso i documenti da produrre fanno perdere molto tempo anche solo per iniziare un cantiere già fatto venduto purtroppo porta spesso a questi allungamenti di tempo se poi si lavora in più aziende con dei subappalti in mezzo diventa ancora più critica la cosa tanto che noi abbiamo già da tempo del personale addetto solo a queste procedure alla procedura proprio per mettere in piedi sia da quando si va a legare ai bandi il nostro gelato non mangiare un po' più in alto perché così la gente perché è interessantissimo come penso le aziende mettono impiegati perché devono svolgere i compiti burocratici dice che a proposito dei 25 mila euro citati dal dottor Biserni ci sono voluti 19 passaggi 19 documenti vero o no? è probabile è probabile è probabile ma questo è niente perché sui finanziamenti e quelli di importi importanti è assolutamente molto molto più complessa la procedura anzi adesso il tema non è abbiamo messo 80 miliardi il problema è arrivare arrivare in fretta perché seconda domanda prima di entrare negli aspetti più pratici e tecnici voi temete l'autunno Paolo Cortesi dottor vediamo perché in questo momento c'è stata una discreta ripresa nel senso che chi ancora fortunatamente ha la sua azienda la sua attività essendo ripartito vuole fare i lavori vuole finire le cose che aveva a mezzo bisognerà vedere sul lungo termine appunto come andranno le cose infatti si va molto cauti molto col piede di piombo sperando che non ci siano tre peggioramenti il vostro impegno è maggiormente nei confronti del pubblico o del privato? diciamo che quando parla di burocrazia è chiaro che c'è più il pubblico più verso il pubblico o anche le aziende passaggio ulteriore che interessa proprio per capire il futuro prossimo possibilmente ma l'azienda le aziende al di là di quello che dice Bonomi che può essere plausibile o meno accettabile o meno pone dei problemi però l'impresa futuro quale deve essere? come deve attrezzarsi? l'impresa tecnologica sempre più tecnologizzata? prego ma io direi sempre assolutamente più tecnologia e sempre più lavoro agile cioè ove e quando smart working cioè ove e quando possibile il lavoro agile se è svolto da persone serie e coscienziose e gran parte dei lavoratori sono serie e coscienziose riscontriamo che la gente lavora di più non di meno avremo poi secondo me anche dei benefici in termini in termini di mobilità cioè se la gente deve girare meno e può lavorare da casa chiaro che le infrastrutture tecnologiche debbono essere tali da permettere che le informazioni viaggiano e viaggiano veloci che non deve succedere che il server si pianta perché la linea non c'è quindi se le linee telefoniche le linee di trasmissione dati sono efficienti e la gente coscienziose lavora da casa probabilmente noi riusciamo anche ad aumentare la produttività e a ridurre tutta una serie di costi proviamo a immaginare un ufficio fatto solo di impiegati dieci impiegati venti impiegati venti uffici venti computer il problema dello spazio fisico dello spazio fisico e se noi invece concentriamo concentriamo queste risorse ognuno a casa sua e ogni tanto si va in ufficio probabilmente lo spostamento l'impegno dei luoghi il costo di tutte quelle risorse possono essere rimodulate Dottor Vigeni e Dottor Cortelli questo vuol dire però affrontarli in maniera diversa ad esempio il tema dei trasporti e quindi questo significa anche il tema del New Dream poi il tema dei servizi penso a una grande città come Roma dove ogni mattina sbarcavano centinaia di migliaia di persone negli uffici e lì vicino al pranzo c'erano i bar i snack i ristoranti salta tutto quel meccanismo quindi concepire organizzazione del lavoro in maniera diversa ma anche lo smart walking quello di oggi non è smart walking è una necessità smart walking significa che deve voi aziende avere la strumentazione dentro l'azienda gli spazi dentro l'azienda un contratto con il vostro lavoratore che è a casa che a sua volta deve avere la strumentazione perché oggi vi sfido nessuno di voi ha dato un computer al lavoratore che lavorava a casa magari l'aveva in proprio noi fortunatamente avendo è una mosca bianca no avendo parte del personale che fa sia parte tecnica interna che commerciale in giro già loro erano attrezzati con un computer aziendale e alcune volte già lavoravano da casa in certe occasioni altro personale che normalmente lavorava in ufficio li abbiamo dotati di portatile o in alcuni casi anche di computer fissi molto compatti aziendali in modo da poter lavorare da casa senza usare strumenti privati perché a livello di sicurezza usare il proprio computer diventa molto rischioso questo è un altro aspetto molto delicato evitate l'accheraggio evitate le sovrapposizioni è chiaro chiarissimo quindi voi comunque diciamo gli uffici pubblici in particolare in questo tempo io lo so di molti casi non è che abbiano dotato il proprio dipendente a casa istituti previdenziali infortunistiche ma c'è anche un discorso di gestione di dati che accedere dall'esterno diventa più complicato diventa molto complicato ci sono strutture anche strutture con cui noi lavoriamo facciamo impianti dove l'infrastruttura di rete loro è blindata da fuori non hai modo di accedere perché? perché ci sono parliamo di rete ferroviaria italiana ci sono delle infrastrutture di rete su cui noi installiamo apparati ma dal di lì ci accede solo chi è dentro quella rete anzi anche a voi chiedo subito appena arrivi in Emilia Romagna perché sono solo 5 state le regioni in cui immuni è già stata applicata l'applicherete voi due? va lei? io l'ho già installata già installato? già pronto? sì è già operativa ma anche io senza altro la ritenete utile non vi sono controindicazioni i dati non vengono assolutamente io mi sono documentato più possibile sin dall'inizio in effetti l'applicazione anche una volta installata non chiede nessun dato assolutamente non chiede nome non chiede niente c'è già il governatore del Veneto che pone 3-4 condizioni ogni di queste dice giusto che si sappia che quel lavoratore ha sintomi o è asintomatico eccetera però chi è chi trasmette l'ASLA perché è l'ASLA che lo deve sapere non lei o Biserni voi due è l'ASLA che lo deve sapere in pratica nel momento che una persona a seguito di aver fatto il tampone comunque le analisi risulta positiva è l'operatore sanitario che va ad abilitare questa funzione cioè a segnalare che questo utente è positivo l'unica informazione che gira è che questo codice univoco che viene generato dall'applicazione non raccogli dati personali verrà diciamo marchiato come positivo è interessante però lei telefoni al governatore Zaya che ha delle sue perplessità come possiamo averne tutti il luogo fisico dell'azienda lei come dirigente dell'azienda che luoghi fisici deve di cui può e deve dotarsi l'azienda beh allora oggi deve cambiare necessariamente ed è già cambiato il modo di lavorare perché un'azienda sana dove c'è un imprenditore a corto ancorché non sia obbligatorio gira con le mascherine si tiene il gel a disposizione c'è la misurazione della temperatura all'ingresso c'è il controllo cioè un'azienda accorta quindi tiene sotto controllo la salute dei propri dipendenti ma per un motivo molto semplice perché se c'è un contagio dentro l'azienda poi probabilmente l'autorità sanitaria potrebbe anche adesso sembra che ce ne sia un po' di meno però c'è il problema della responsabilità di fronte all'istituto dell'INAIL responsabilità civile questo è molto è una cosa posso dire ancora una volta mi scusi il dottor Biseni ma lo dico anche il dottor Cortisi per la mia esperienza personale attenzione che a livello amministrativo non si può cambiare una legge l'INAIL ha una legge che prescrive quello quindi nel decreto rilancio vi dico voi parlamentari cercate di introdurre un codicillo su queste cose perché loro aziende hanno delle responsabilità altrimenti nel caso in cui uno fosse colpito al coronavirus infatti questa prescrizione normativa è prevista dall'articolo 42 del decreto di regalo sì ok e dopodiché è intervenuto un comunicato stampa dell'INAIL però insomma non è sufficiente quella è una cosa amministrativa non serve il comunicato stampa non è fra le fonti del diritto avvocato qualsiasi vi dice mi metti in buca assolutamente adesso però aiutatemi per cortesia perché abbiamo al telefono ecco mi interrompo perché abbiamo il professor Vincenzo Balzani che io saluto caramente la ringrazio tanto perché non solo io ma tutta intera l'Emilia Romagna e non solo ma l'Italia ha un grande senso di differenza nei suoi confronti io tra l'altro professore lavoro molto bene col professor Braga che sentiremo dopo e con l'associazione parliamone ora che lei conosce molto bene no? professore? sì 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 certo che la conosco sì io guardi adesso lei non vede però sul mio tavolino energia per l'astronave Terra che è l'ultima o non credo l'ultima perché l'ha aggiornata il suo libro nella prefazione dice siamo in un momento cruciale della storia dell'astronave Terra l'era dell'uomo l'antropocene però questo prima di coronavirus adesso è avvenuto adesso è ancora è ancora più speciale ancora più particolare però rimane il fatto che siamo in quest'era dell'antropocene dove l'uomo in pratica ha voluto fare tutto ha voluto fare tutto ma si è anche andato in pelagare con questo virus che se ne stava così buono nelle foreste o nei pipistrelli o che so io lo siamo andati a disturbare e lui è una specie profugo che è venuto verso di noi e ha trovato poi di abitare molto bene nei nostri corpi professore ma questo è un virus dicono ai virologi io medici perché non li chiamo scienziati io chiamo lei scienziato perché è un medico specialista è un medico specialista non è uno scienziato lo dico un'altra volta perché sento dire tutti che si nominano io scienziato scienziato la scienza è una cosa difficile molto complessa c'è la scienza la scienza di per sé non è esatta nemmeno la sua forse la matematica ma guardi volendo nessuno è un vero scienziato tutti dobbiamo conoscere anzi uno più sa e più sa che ci sono cose che non conosce quindi perfetto professore allora faccio la domanda specifica i virus causa l'amazzonia la deforestazione il clima che cambia lei so che lo scrive anche ultimamente in alcuni articoli ci saranno sempre maggiori e peggiori virus che circoleranno in mezzo a noi al di là che ci sia una seconda ondata di covid-19 come dobbiamo attrezzarci professore intanto i virus ormai sembra chiaro sono addirittura più vecchi dell'uomo più antichi ci sono sempre stati perché in qualche modo in questo filo che porta dall'atomo all'uomo perché anche l'uomo è fatto di atomi allora gli atomi mettendo insieme gli atomi si ottengono le molecole mettendo insieme le molecole che tengono i sistemi supramolecolari e poi dopo se andiamo avanti 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 andiamo alle cellule e poi dopo andiamo agli organi ma ecco dai sistemi supramolecolari alle cellule le cellule sono vive i sistemi supramolecolari non sono vivi in mezzo ci sono questi virus che sono dei composti chimici complicati non sono vivi però si riproducono quando entrano in un animale appunto nel corpo dell'uomo allora bisogna sapere che in fini conti anche per sediare i virus è importantissima la chimica oltre che naturalmente tutti gli aspetti pratici la virologia eccetera allora possiamo aspettarvi ancora ce ne sono tantissimi ancora di virus se noi li lasciamo stare non succede niente sa che c'è un grande scienziato lui veramente grande che si chiama Wilson che in modo provocatorio ha detto se vogliamo starci in pace in terra dobbiamo occupare solo la metà della terra e l'altra metà lasciarla alla natura invece noi cosa facciamo sempre consumiamo del suolo lo asfaltiamo lo sfruttiamo buttiamo giù le foreste in modo che questi virus o comunque tutti quelli che sono diciamo anche gli animali che poi vivono in queste foreste non hanno più posto e quindi vengono fuori bene allora professore però il passaggio io ogni tanto non leggo questo libro energia per l'astronave terra in questo momento io l'ho detto nell'incipit iniziale di questa puntata del ping pong Tesla Musk ha mandato New Dragon questo nella stazione orbitante internazionale là per cercare di andare prima o dopo su Marte questo è il punto quindi tanti sette miliardi e mezzo oggi sulla terra noi in covid e loro su verso la stazione spaziale cambia qualcosa cambia che sono tutte spese pazze intanto su Marte non è neanche sicuro che ci arriveremo mai e comunque supponiamo che uno vada su Marte cosa fa non vede l'ora di tornare a casa come hanno fatto quelli che erano sulla luna è inutile il nostro posto la nostra casa comune come dice il Papa è la terra noi non possiamo occuparsi dell'universo quindi bisogna che stiamo sulla terra e cerchiamo di vivere il meglio che si può quindi sono tutti soldi sprecati secondo me questi qui della Nase e anche di questo qui questo grande ricone che può essere bravo sarà anche decente che lo mette in dubbio le macchine elettriche una grande conquista però insomma cerchiamo di spendere la nostra intelligenza per stare meglio su questa terra perché poi di problemi li abbiamo moltissimi c'è non solo il virus ma anche prima del virus c'è il problema della sostenibilità e la sostenibilità la sostenibilità a due versanti a quel ecologico che appunto a forza di intervenire distruggere tutto inquinare eccetera abbiamo fatto scappare il virus e poi c'è la sostenibilità sociale non dobbiamo dimenticarci che abbiamo un sacco di gente povera in giro la differenza tra poveri e ricchi aumenta sempre ci sono anche in Italia è una cosa incredibile se non avete le statistiche ci sono 4-5 persone che hanno i soldi di 500.000 operai in Italia non parliamo di Bill Gates e altri due grandi miliardari che tutti insieme hanno i soldi come tutta l'Africa insomma sono cose inconcepibili bisogna che noi ci orientiamo verso una maggiore uguaglianza perché anche in America adesso perché sta succedendo quello che sta succedendo perché c'è poco in America è uno dei paesi dove ci sono le maggiori disparità sociali in America i poveri non sono curati negli ospedali io sono andato in America una volta a fare una conferenza e mi hanno detto va bene ti prendiamo a fare la conferenza ma tu devi avere l'assicurazione per il rimborso della salma cioè se io mi ammalavo e morivo là doveva avere rimborso per tornare morto in Italia capisci non c'è e non c'era naturalmente possibilità se ne fosse ammalato di avere l'assistenza aspedaliera è tutto pagato è sempre un piacere parlare con lei io vorrò molto presto tornare se lei lo vorrà lei vorrà la ringrazio tanto perché ripeto uno sguardo così sul mondo sul pianeta Terra l'astronave grazie professore a lei saluto grazie buonasera e adesso allora andando alla conclusione di questa parte io devo chiedervi cominciando dal dottor Cortesi le nuove tecnologie dell'azienda per rispondere al desiderio di cambiamento dopo covid 19 di sicurezza pur nella socialità che non è la mascherina o il termoscanner ecco prego diciamo che a livello tecnologico questa brutta esperienza del covid ha permesso di affinare molti prodotti che già erano in commercio e anche di permettere a tante aziende anche molte italiane di un po' reinventarsi di investire infatti abbiamo visto tanti prodotti atti alla misurazione della temperatura al controllo della presenza della mascherina quindi per dare questi automatismi che prima magari non c'erano o ce n'erano pochi sono il mercato è un po' esploso anche la proposta anche da aziende che prima non facevano questa applicazione qui diciamo che oggi ci sono anche noi abbiamo già fatto varie installazioni principalmente in musei ambienti ferroviari in negozi attività commerciali quindi dove c'è un pubblico molte persone che girano fino anche a qualche azienda per tutelare i propri dipendenti le tecnologie in effetti adesso ce n'è più di una dalla termocamera che è quella un po' più precisa e affinata fino ad arrivare a sensori laser sono le cose più nuove adesso ci sono degli apparati nuovi dove basta presentare il polso al lettore e tramite un laser fa una misura quindi senza contatto senza uso di telecamera eccetera quindi ormai la scelta è ampia quello che ritengo è che questo tipo di applicazioni di controllo ok è nata adesso questa grossa esigenza per il covid ma penso che possa anche essere mantenuta dopo perché parere personale un centro commerciale dove io vado con la mia famiglia se una persona che arriva con la febbre quindi non sta bene viene un attimo verificata segnalata e rimanata a casa io mi sentirei anche più tranquillo perché se io vado in giro con la febbre ho un'influenza qualsiasi premesso che non andrei al centro commerciale per dire però anche il fatto di sapere che se entri in un posto c'è stato un minimo di controllo mi sento più tranquillo anch'io a parte il discorso covid in generale quindi potrebbe essere anche un che trovo un futuro un'applicazione futura io penso anche dottor Cortesi dottor Biserni e lei anche la conclusione di questa parte che è interessante penso il momento in cui con un piccolo chip magari nel polliceo un chip io ho il pin delle varie ingresso in casa in banca ci siamo molto vicini diciamo che la cosa è già fattibile senza chip perché già col cellulare si può gestire di tutto anche in alta sicurezza perfetto dottor Biserni io ritengo che oramai dobbiamo abituarci a convivere con questo virus non so per quanto tempo diciamo fino all'epoca in cui avrà scoperto il vaccino non è una cosa che lo diranno gli scienziati quando potrà avvenire però è chiaro che non è una cosa che avviene domani mattina e avviene in breve tempo su alcuni virus il vaccino non è mai stato trovato l'HIV per esempio il vaccino non è mai stato trovato anzi potrebbe essere causa di qualche disgrazia per cui noi dobbiamo abituarci a convivere questa convivenza deve essere fatta con intelligenza non con avendo troppa paura ma avendo l'intelligenza di capire che ogni ogni nostro comportamento può essere rischioso per noi e per gli altri quindi indossare mascherine igienizzarsi spesso le mani la misurazione della temperatura questo comunemente nei luoghi di lavoro ancora di più perché sono dei luoghi dove la concentrazione delle persone può essere anche particolarmente alta e dove la promiscuità è molto alta perché arrivano persone che giungono da luoghi più disparati da famiglie diverse quindi questa fase che durerà fin quando non si trova il vaccino è una fase che dovremo gestire con molta intelligenza vi ringrazio qui ancora una volta si apre uno spaccato io ho affrontato tema prima degli spaccatori nella società che sono avvenute le spaccature durante il periodo di coronavirus poveri ricchi giovani anziani nord sud spaccature tante che devono essere ricomposte ce n'è anche un'altra l'azienda il luogo di lavoro tradizionale fordista e invece la nuova azienda che è un'altra cosa magari più piccola minori spazi ma con tanta maggiore tecnologia io vi ringrazio buon lavoro grazie buonasera grazie buonasera sigla e il nostro viaggio come detto già continua continua come perché la domenica ormai sono candute almeno le frontiere interne tra le regioni con ordinanze più o meno diverse però questo è accaduto in Italia anzi con il 4 no con domenica dopo il 3 il 3 si è concluo il 2 la festa della Repubblica il 3 e quindi andiamo verso una normalizzazione in Italia per quanto riguarda il turismo i passaggi da regione a regione siamo in una terra di turismo come si dice caro Gianluca Manuzzi Luca Manuzzi di Viaggi Manuzzi in Cesena in coming in entrata sì sì sicuramente la data del 3 ha coinciso con l'apertura regionale delle regioni quindi col traffico fra regione e regione sicuramente la possibilità per tutti di ritornare c'era un grande desiderio di calabilità sicuramente in qualsiasi posto d'Italia uno abbia il desiderio di andare ovviamente domenica c'è già stata un po' diciamo un'anticipazione di questa di questa grande possibilità nelle nostre era una prova generale sì la nostra riviera è stata veramente presa da saldo giustamente anche perché le giornate erano belle il ponte era invitante soltanto che chiaramente ci sono potuti venire a trovare soltanto i nostri corregionali emiliano romagnoli da lunedì invece le cose sono cambiate perché oltre che poter raggiungere le varie regioni si possono raggiungere anche aeroporti porti quindi dopo vedremo c'è un problema invece con l'estero in particolare diciamo che sì ci sono delle situazioni ancora non definite però siamo siamo molto confidenti che anche per noi italiani ci sia la possibilità in maniera diciamo completamente libera di poter girare io so che lei è ottimista l'ottimismo è il sale della vita diceva Alcolino Guerra lo dobbiamo essere lo dobbiamo essere soprattutto in situazioni come queste che hanno visto veramente il nostro mondo il mondo dei viaggi il mondo del turismo in generale soffrire una battuta d'arrestro che mai avevamo visto che mai avevamo avuto per cui sicuramente c'è bisogno però si prepari perché il nostro compito con questo nostro ping pong è capire come andrà il futuro nel secondo passaggio apro un'altra finestra che è quella invece del turismo itinerante e che è un pezzo importante delle economie e del turismo di quel 13,5% del PIL che rappresenti il turismo in maniera complessiva una parte dovuta anche al plein air Enrico Rabboni che è titolare di Meteor Viaggi Rimini si statale per San Marino esatto Meteor Viaggi si la nostra azienda diciamo che ha come fiore all'occhiello il noleggio camper quindi abbiamo una flotta di 60 veicoli e ovviamente siamo molto attenti a quello che è il discorso del turismo itinerante dei viaggi e appunto sì come diceva il collega qui di fianco sì dobbiamo essere ottimisti e dobbiamo fare in modo di ripartire abbiamo già visto comunque un buon interesse a partire da sabato già di diverse persone c'è una richiesta ad esempio da quello che mi risulta una richiesta proprio di prendere in affitto nei fini settimana durante la settimana di camper oltre che la ripresa della vendita attraverso i concessionari proprio l'affitto di un camper sì sì l'affitto diciamo che è il primo approccio per poter capire se questo tipo di vacanza è quello che è una vacanza giusta è a prova della persona che lo va a sperimentare della sua famiglia e tante persone in questo momento che non erano propense a questo tipo di vacanza o comunque non avevano questo tipo di attenzione sotto questo tipo di appunto di utilizzo di veicoli recreazionali si sono trovati diciamo pronti a sperimentare quindi ci chiedono appunto di poter di poter provarlo per i weekend per qualche giorno secondo me e dopo si prepari ci sono due temi da affrontare con lei il tema della sanificazione di questi mezzi e dell'utilizzo di questi mezzi con estrema sicurezza e dall'altra le mete da preferire però lo stesso tema le mete da preferire Italy One Italia prima sì sicuramente quest'anno ci sarà una scelta preponderante per per le vacanze in Italia noi siamo prontissimi a questo anzi da sempre avevamo investito e rivolto i nostri investimenti sulla proposta Italia per quanto riguarda il periodo estivo quest'anno ancora di più maggiormente proprio anche dovuto al fatto che probabilmente ad inizio si pensava ad una si pensa ancora tuttora ad una difficoltà a raggiungere altre mete diciamo fuori dai nostri confini sicuramente invece ci sarà una 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 fievolirsi di queste misure che ancora alcuni paesi UE stanno ponendo proprio perché ci sarà una mediazione forte da parte della comunità europea per continuare ad avere questa libera circolazione nostra soprattutto per quanto riguarda la comunità quindi lei sostiene non accordi tra due paesi o tre paesi ma un accordo una linea europea congiunta si li stanno anche fra l'altro questi accordi diciamo fra paesi li stanno non dico boicottando però si sta privilegiando veramente una linea che abbracci congiuntamente tutti i paesi UE questo come è anche giusto che sia lei non ne ha bisogno che glielo lo dica io perché lei è uno storico titolare di un'agenzia importante in Romagna in Italia come gli altri Manuzzi ma lei andrebbe subito domani mattina a Mykonos dunque forse non ci andrebbe perché in questo momento la Grecia ci ha detto di no la Grecia però devo dire per chiarezza di esposizione la Grecia non ha detto che non vuole gli italiani la Grecia ha detto che ha anticipato l'apertura delle sue frontiere ma non a tutti perché la data in cui aprirà le frontiere a tutti anche agli italiani è il 15 di giugno perfetto questo diciamo è un po' un assunto ma l'ha detto noi nostri confronti come dalla Svezia sì ovviamente anche della Francia e della Spagna diciamo che è stata un po' presa ad arte la dichiarazione dei greci dicendo che non ci vogliono ma probabilmente allora diciamo una cosa in Europa io lo metto quasi per certo potremo andare dovunque anche nel nord Europa nord Europa i paesi scandinavi io parlo UE diciamo che auspichiamo veramente una linea comune nell'ambito della libera circolazione UE come o Schengen come Schengen senza barriere a meno che non ci siano delle recrudescenze del contagio e noi non auspichiamo che ciò avvenga ovviamente però evitare sempre gli assembramenti ahimè purtroppo dei casi che abbiamo visto in questo fine settimana anche da parte dei politici io non parlo di politica ma parlo di questa necessità paradigmatica pedagogica voi cari politici e cara classe dirigente dovrete essere pedagoghi per noi tutti assembramento senza mascherina non è ammesso per nessuno prego sì noi sponsorizziamo molto il turismo in Italia in questo momento appunto ai nostri clienti suggeriamo di scelta nelle vacanze appunto di puntare sull'Italia proprio per evitare comunque di rischiare di perdere il progetto viaggio o comunque doverlo modificare in maniera diciamo abbastanza frequente ecco quindi per evitare appunto la situazione di dover andare a perdere il viaggio puntare io devo dire ai nostri telespettatori che così come per gli alberghi i bagni eccetera esistono dei protocolli delle linee generali di applicazione ma anche dei protocolli in particolare esistono i protocolli anche che adottano le linee guida le agenzie di viaggio ma anche soprattutto i protocolli per il preneer dopo sanificazione cosa vuol dire andare nell'area di sosta cosa vuol dire dobbiamo essere molto chiari protocolli linee di guida anche per le agenzie di viaggio che hanno dei loro problemi storici però come vengono applicati diciamo che ci sono sicuramente delle linee guida che hanno che stanno determinando la possibilità quindi di viaggiare sia nei mezzi di trasporto consoni quindi aerei treni e navi e soprattutto nel momento in cui si arriva in hotel resort quindi luoghi di vacanza quindi sono già tutti molto ben codificati benissimo quindi attenzione tranquilli perché ci sta ascoltando anche il professor Claudio Paolucci che è docente di filosofia e teoria dei linguaggi dell'università di Bologna ringrazio per questo buongiorno grazie dice qualcuno ma cosa c'entra la filosofia il docente di filosofia e teoria dei linguaggi non solo con i viaggi stiamo parlando in quest'ultima parte del il viaggio ma con il cambiamento della società cosa succede il pensiero è energia il cogito ergo sum di cart cosa succede nel futuro dopo covid negli ambienti di lavoro nel viaggio nelle nostre case guardi la filosofia non consola ma semmai aiuta a diffidare delle false consolazioni in qualche modo quindi dal mio punto di vista succederà un po' quello che è successo prima cioè il sistema di valori che presiede alle nostre società continuerà lei pensi abbiamo chiuso immediatamente la scuola le università i concerti e i musei abbiamo avuto difficoltà a chiudere le imprese i parrucchieri le palestre i bar i ristoranti eccetera cosa succede adesso abbiamo riaperto i bar i ristoranti i parrucchieri le palestre le imprese però i concerti i cinema la scuola e l'università sono ancora chiuse o passano attraverso schermi questo in qualche modo mostra un po' chiaramente qual è cosa è considerato importante che cosa in qualche modo si può chiudere più facilmente o meno facilmente allo stesso tempo credo che quello che cambierà sarà una invece una maggiore digitalizzazione lei una volta c'era un'opposizione tra il chiacchierare di persona e quelli che guardavano il telefonino o lo schermo lei vedeva quelle coppie al ristorante che non parlavano perché lui era il telefonino che guardava la partita o non so cosa invece lei per la verità anche lei il bambino anche lei guardava altre cose perfetto prego esattamente guardava altre cose invece adesso ci siamo resi conto che in fondo gli schermi i telefonini ci hanno permesso di chiacchierare in questa fase dove eravamo chiusi tutti a casa non so se ha visto probabilmente certamente sì questo dato che il 94% delle persone nella pubblica amministrazione vogliono continuare in pieno lavoro in smart working quindi questo verrà cambiato la nostra esperienza passerà sempre più attraverso schermi attraverso diciamo confini e attenti rispetto a presenze e a esperienze di persone credo che questo sarà abbastanza non si tornerà indietro da questo punto di vista professore le posso fare una seconda domanda che è un po' il quadro definitivo della nostra puntata secondo lei lei è filosofo dei linguaggi anche sì covid-19 come ha cambiato il nostro linguaggio non quello virtuale solo del quale lei stava parlando adesso ma di quello materiale il nostro linguaggio come è cambiato il nostro modo di guardarsi in faccia il nostro modo di interloquire prego assolutamente ha cambiato esattamente tutta la forma del linguaggio non verbale tutta la proscenica tutte le espressioni la prosodia il linguaggio dei segni il linguaggio del corpo il linguaggio del volto ovviamente noi non comunichiamo soltanto attraverso le parole e il linguaggio verbale ma comunichiamo in molti modi e queste forme di comunicazione che passano attraverso schermi e filtrati come le mascherine come una proscenica diversa dobbiamo stare lontani non ci possiamo salutare come una volta tutto questo è irriducibilmente cambiato e non si ritornerà indietro troppo presto in qualche modo quindi c'è se il nostro linguaggio verbale resta costante tutto il resto della comunicazione tutti gli altri linguaggi sono radicalmente diversi e questo cosa vuol dire che tutto ciò favorisce un rinchiuderci in noi stessi o in un modo di aprirsi agli altri cioè questo distanziamento questo nuovo linguaggio cosa produce in noi stessi produce un diverso modo di aprirsi agli altri prima ci aprivamo in modo diverso adesso siamo costretti ad aprirci in modi più mediati che passano attraverso protesi digitali e protesi anche fisiche ma questo non ci non ci farà richiudere in noi stessi anzi c'è forte la voglia di stare insieme nei modi in cui si può fare beh questo è importante il parere del filosofo il pensiero che domina poi le faccio l'ultimissima davvero perché voglio concludere con i nostri ospiti qui e poi avrò il professor Skype in Skype il professor Braga con cui vorrei concludere la domanda è questa e cosa ha prodotto nell'immaginario collettivo il vedere quei carri militari che trasportavano le salme in quelle bare cosa rimane nell'immaginario collettivo nella nostra coscienza perché qui c'è il tema dell'invincibilità o qualcuno come noi nell'epoca dell'antropocene si era convinto che fossimo immortali e improvvisamente un virus microscopico ci ha messo in difficoltà cosa produce tutto ciò produce secondo me la sensazione di caducità molto forte e la sensazione terribile che in certe situazioni come questa la morte non è possibile nemmeno ritualizzarla nemmeno grammaticalizzarla lei pensi le tantissime persone che non hanno potuto dare un ultimo saluto ai propri cari allora il nostro modo di costruire un rituale attraverso il funerale i riti religiosi eccetera è proprio un modo di elaborare il lutto di grammaticalizzare la morte e di renderla il più impersonale possibile perché il rito è comune a tutti e il dolore ci è rimasto soltanto privato e ci è rimasto in una dimensione di assenza che non abbiamo potuto elaborare insieme alle persone care stare insieme a dare un ultimo saluto ai nostri cari che invece sono stati portati via appunto come diceva lei da militari eccetera quindi la caducità della morte e la nostra debolezza costitutiva è stata affiancata dall'impossibilità di ritualizzare grammaticalizzare e con questo rendere impersonale e condiviso il dolore grazie professore io concludo anche con lei cogito ergo sum penso e allora sono sono vivo posso vivere al di là del covid grazie professore assolutamente grazie grazie a voi buona serata e buon lavoro grazie Enrico Raboni sì appunto tornando al discorso dei viaggi sicuramente questo strumento un po' di filosofia ci vuole anche nel viaggio nel campo qualcuno pensa quando va per la strada sicuramente il viaggiatore è un viator alla latina il viaggiatore è colui che scopre scopre pensa e inventa soprattutto il camperista che cambia orizzonti costantemente comunque volevo aggiungere al discorso che lo strumento del camper sta diventando anche proponderante anche nell'ambito lavorativo in questo momento perché come mezzo di lavoro come mezzo di lavoro tantissimo quindi smart walking dentro il camper molti appunto lo stanno utilizzando per spostarsi e per per andare a svolgere lavori in tutta Italia e presto anche in tutta Europa e allora viva il plein air a lei la conclusione in questo nostro confronto Luca Manuzzi diciamo che sempre tornando sulle parole che ci hanno con le quali abbiamo aperto l'ottimismo sicuramente non deriva da una così da una da una volontà che prendiamo e vogliamo e vogliamo mettere mettere in pratica ma proprio perché abbiamo testato il sentimento proprio delle persone che con le quali eravamo e siamo abituati a trattare abitualmente noi generalmente facciamo viaggiare oltre 20.000 persone all'anno 20.000 persone all'anno per cui in tanti in questi in questi momenti ci stanno per così dire contattando proprio perché hanno una veramente tanta volontà e tanta voglia di ricontinuare a viaggiare in maniera probabilmente diversa dal punto di vista proprio del trasporto ma che sicuramente nelle nelle proprie caratteristiche essenziali sarà sempre quella io in conclusione ora le chiedo questo lasciamo stare i voucher i rimborsi tutti i problemi tecnici perché non sono non è stato possibile magari ne parleremo un altro si può riprendere in avanti lei è fiducioso quindi ma con itinerari quasi esclusivamente italiani oppure guardando fuori mettendo il naso fuori dall'Italia poi c'è il problema degli aerei dei voli noi abbiamo messo a punto tantissimi itinerari alla scoperta anche di un'Italia non dico insolita ma forse meno conosciuta al fianco dei itinerari classici per questo mi riperisco ai borghi italiani piuttosto che nelle regioni più delle regioni più importanti e più tipiche caratteristiche prego e quali per esempio l'Umbria l'Abruzzo sempre sempre se non vogliamo nominare Toscana piuttosto che che Campania piuttosto che Lazio adesso fra un po' mi collego col professor Braga però l'ultima domanda è entrambi sì o no applicazione immuni sì o no sì sicuramente sì è un'applicazione che servirà ad avere una responsabilità civile verso noi stessi e verso gli altri io non so se il professor Braga si stia ascoltando noi siamo in collegamento Skype il professor Braga mi sta ascoltando no vediamo la sua immagine lui forse sentirà noi e me ma io non sento lui quindi noi adesso cominciamo a immaginare un volo quindi le Maldive quest'anno non per nulla no assolutamente sì dal primo luglio le Maldive riaprono certo abbiamo le Maldive anche in Puglia comunque c'è Salento Gargano diciamo che ho risposto sì no no era per scherzare comunque sì assolutissimamente per noi al momento Italia e comunque guardando l'Europa in maniera fiduciosa anche perché tantissimi clienti comunque chiedono e vogliono sognare Caponord e le mete quelle Caponord io sono stato tre volte con il camper Caponord e quest'anno pensavo di tornare ma in me la Norvegia ha chiuso ancora è tutto chiuso non lo so vedremo il prossimo ma bisogna rimanere fiduciosi e comunque speranzosi che presto ritorneremo a fare quello che facciamo prima io ringrazio voi adesso non so se la regia sia in grado di mettermi in contatto con il professor Braga perché vorrei con lui concludere vediamo se arriva questo collegamento con il professor Braga dell'Università di Bologna un chimico il quale è anche animatore del gruppo di Parliamone Ora che è un'associazione di professori universitari che intende portare la conoscenza la scienza nelle piazze nei quartieri nelle piazze nelle aree televisive come in questa Agora con questa piazza perché l'importante è sapere sempre comunicare anche voi lei a proposito in questo momento ha non so se l'ho chiesto a lei già lavoratori smart walking da sempre da subito dall'inizio della chiusura abbiamo attivato questa modalità operativa anche per essere vicine alle nostre aziende che seguiamo per il business travel che dovevano far rientrare dall'estero i loro tecnici i loro lavoratori anche noi da subito in smart walking perché avevamo diverse comunque situazioni di appunto lavorando con i camper in maniera per chi lo utilizzava per lavoro quindi da subito in smart walking oggi siamo ritornati tutti operativi in sede con i giusti dispositivi e distanziamento sociale comunque è uno strumento che crediamo utile che debba essere utilizzato in futuro dopo c'è il problema camping e area di sosta sì in questo momento ancora è un è un punto abbastanza interrogativo comunque i campeggi come i vari ristoranti e tutte le altre strutture si stanno devono osservare dei protocolli rigidi rigidi un messaggio direttamente per il pubblico da parte di Luca Manuzzi sì volevo magari in telecamera lo mandi direttamente a loro guardi volevo proprio darlo congiuntamente quello che mi aveva chiesto lei la sicurezza degli aerei per la sicurezza degli aerei posso veramente dare ogni massima rassicurazione a chi vuole chi vuole e a chi è in procinto di viaggiare e di pensare di viaggiare in aereo proprio perché la diciamo la i protocolli sono portati all'eccesso quasi direi a bordo degli aeromobili con la garanzia ovviamente di una distanza giusta di sicurezza e il ricambio quasi costante della reazione determina veramente la sicurezza per chi volrà tornare a viaggiare in aereo grazie grazie ad entrambi noi abbiamo tentato di costruire dovevo aggiungere qualcosa no per il camper diciamo che la sicurezza parla il camper da solo da sé in questo momento tantissime persone si stanno lo stanno preferendo come tipologia e appunto lo dimostrano grazie grazie adesso ci fermiamo un momento se sarà possibile col professor Braga mi sentite adesso ecco adesso la sento il professor Braga la ringrazio stavamo concludendo e io mi ero già intimorito invece voglio concludere con lei la prima domanda è questa vi state preparando come università ad aprire i cancelli in maniera definitiva dunque definitiva non c'è nulla di definitivo in questa vita sicuramente noi stiamo facendo tutto il possibile per ripartire con la ricerca e lo stiamo già facendo i nostri laboratori hanno cominciato di nuovo a lavorare direi a tempo pieno con le limitazioni di spazio insomma riesco a portare la metà dei nostri collaboratori in laboratorio la didattica la facciamo ancora online non è un grosso problema questa fase non è un grosso problema a settembre sarà molto importante vedere se riusciamo a portare gli studenti nelle aule ne abbiamo già parlato qui in Pong lei sa come la penso io come la pensano tantissimi i miei colleghi la didattica all'insegnamento richiede la condivisione richiede la partecipazione e soprattutto nelle aree scientifiche e tecnologiche richiede l'affiancamento noi dobbiamo lavorare fianco a fianco ed è la cosa che oggi è in contraddizione palese con il concetto di distanziamento delle persone però siamo fiduciosi questo è il senso di tutto quello che stiamo facendo per portarci a un qualche nuovo livello di normalità noi abbiamo già affrontato questo tema professore quando lei arrivo subito l'altro tema importante quando lei dice ma fare laboratorio significa stare insieme confrontarsi fisicamente vicino guardandosi negli occhi affrontare le formule io sono d'accordo con lei però passo al secondo argomento molto interessante ho visto delle sue slide e delle sue considerazioni quanti e quali problemi o argomenti esterni esogeni chiamiamoli così hanno influito sullo Skype di coronavirus cioè di questa lancia del coronavirus ma più che hanno influito sulla pandemia sono i problemi con i quali ci stiamo confrontando ormai di regionalmente lei lo sa alcuni amici alcuni commentatori hanno considerato la pandemia l'ultimo avvertimento il messaggio l'ultimatum alla terra insomma perché obiettivamente è arrivata dopo una serie di eventi catastrofici il 2019 è stato particolarmente sfortunato abbiamo avuto uragani abbiamo avuto alluvioni abbiamo avuto anche l'acqua super alta a Venezia se si ricorda abbiamo avuto la distruzione col fuoco di un pezzo enorme dell'Australia abbiamo avuto e abbiamo adesso ancora le cavallette sembra quasi una sorta di piaghe d'Egitto scatenate sul mondo intero quindi i catastrofisti hanno avuto un buon gioco a vedere nel coronavirus l'ultimo in ordine di tempo di questi avvertimenti io non condivido questa visione perché purtroppo di pandemie ne abbiamo avute tante nella storia e ciclicamente questo problema si ripete semmai è abbastanza paradossale che visto che questo problema ciclicamente si ripete noi poi ciclicamente ci troviamo poco preparati ad affrontare ma questa è un'altra partita quello che io vedo che spesso stiamo tutti dimenticando è che c'è una tendenza c'è un problema sottofondo che comprende tutto quanto che nasconde tutto quanto ed è quello della crescita della popolazione nel mondo tutti i discorsi di sostenibilità a partire da quelli della nostra amica Greta Thunberg se non fanno i conti che come dice l'ONU le Nazioni Unite nel 2050 noi pensiamo di essere 3 miliardi di persone in più allora capisce con alcuni barbonetti che tutti i ragionamenti che noi facciamo di economia circolare l'utilizzo delle risorse insomma hanno un po' il piatto corto però è anche un tema molto difficile un tema sul quale nessuno si vuole cimentare nessuno si vuole confrontare perché non ha una soluzione da inguerribile ottimista quali sono forse anche un po' per scelta perché ho figli e vorrei che avessero figli vere nipoti eccetera io sono molto convinto che noi lo dico da scienziato abbiamo le risorse e sono le risorse della nostra capacità di fare ricerca trovare nuovi cibi trovare nuove fonti di energia utilizzare meglio quello che già abbiamo riciclare al massimo però non toglie il problema che noi possiamo migliorare le nostre performance ma se non teniamo conto che appunto la popolazione va crescendo a questo ritmo potrebbe essere un inseguimento che è insomma molto difficile professore questo è un argomento che insieme in quel calendario che ci eravamo dati prima di coronavirus riprenderemo in autunno questo del recupero di tutte le risorse del riuso del rispetto per l'ambiente lei ha fatto proprio il punto lo riprenderemo quello perché è molto interessante molto importante e anche il cibo il tema del cibo il tema del sonno il tema degli anziani coronavirus ci ha aperto infinite finestre professore bene la ringrazio per questo ma la finestra più importante Varbonetti se mi consente sì la cosa che noi dobbiamo metterci come a livello più alto di tutti è preparare delle generazioni di ricercatori delle generazioni di persone colte delle generazioni di persone formate se noi problemi ci andiamo a risolvere dagli altri noi raccogliamo solo le briciole e io parlo del nostro sistema produttivo parlo delle nostre aziende parlo del rapporto tra la ricerca dell'università e l'industria quindi è un grande problema e guai mai che non ci ritrovassimo di nuovo a sprecare e a dissipare le risorse in questo momento di ripartita di ripartenza di ripartenza la ringrazio professore buon lavoro ci sentiremo molto presto grazie professore grazie grazie e noi concludiamo questo nostro confronto vorrei ricordare se la regia me ne dà l'occasione abbiamo sforato ampiamente però un ricordo sono con voi i protagonisti a alcuni avvenimenti e ad alcuni uomini da poche ore si è concluso la cerimonia funebre di Tinin Mantegazza Tinin Mantegazza un uomo straordinario poeta se volete visionario creatore del presepio di Cesenatico sulle barche ecco questa vedete la foto ammalato io lo ricordo perché in questo studio con lui abbiamo affrontato tanti temi molto importanti non solo a livello artistico ma anche a livello filosofico e un secondo ricordo lo vorrei dedicare perché il giovane un giovane Fabio Lombini questo nuotatore forlivese che è scomparso cadendo con l'aereo con l'istruttore pilota era una promessa del sport italiano 22 anni non possiamo non ricordarlo tocca da vicino perché il modo con cui ci ha lasciato sperava di andare alle Olimpiadi pensate già campione ricordo anche la scomparsa di Roberto Gervaso un altro grande italiano che ha fatto la storia d'Italia veramente la storia d'Italia che ha scritto insieme a Dindro Montanelli vi ringrazio ripeto abbiamo sforato però forse valeva la pena vi ringrazio ciao a tutti a Dindro Grazie a tutti.